Grazie a tutti per la vostra presenza su questa cadena! Per lui, se lasse che mi conosce un passo in carro, mi dice Gabrieu, veni dal sud di Francia e parli in lingua d'or. De fatto, si sapeva necessariamente ma Francia è un paese che è forse ricco di un punto di vista linguistico. E, di fatto, in metropoli c'è due aerografie principali che sono Ludomenidull al nord che conoscez forse Ludovic e Ludomenidull al sud che conoscez un paumai. E io e i ci stiamo deciso di comparare per vedere se ci possiamo comprare. Ho spero che sono accompagnato per un amico che ho deixato a presentare. Grazie a tutti per la visione. Io mi chiamo Ludovic. Grazie a tutti i nostri spettatori. La lingua che voglio usare è l'autorangeo, che fa parte dell'Umenidull. Si rappresenta, finalmente, il dipartimento dell'Inderloer, nel centro della Francia. E... questo è un po' di 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 una cosa. E io sono molto contenta di aver guardare. E' preciso che in questo video parlare in lingua d'ocià, in modo che si parla nella reazione della lingua d'ocià, è a dire, forse concretamente, tra Gascunio, a l'est, Provence, a l'est, Lemusì e Overnià, al nord, e Cataluunio, al sud. E se? C'è una persona reale che è conosciuta per il suo arte. C'è qualcuno, c'è un peintore, e ha peinturato uno dei erbili più erlumati nel mondo. Questo artiste è nato in Italia, e ha difinto questo, in la ville d'Ambuese. Questo nobile ha potuto conoscere questo museo del Louvre. E l'UEI è Italia? Come pensi che è Leonardo da Vinci? Exacto. Nobile ha potuto cambiare completamente dei domini. Per me, quando ho cercato un animale, che è di coloro russo, e che era forte forte con gli occhi, mai che mai, di in la zanados nonanto. O è in carro, eh? Se può in carro veire, ma erano coneguiti su tutti in la zanados nonanto. È saponese, e sembro un pao, un esquirol. Ma qui, sasde che stiu si poteva rispondere. Ah, quindi... Si sembra un piccolo, ma... Ma... C'è un po' di... Che cosa ti hai fatto? Un animo che, a nuiti, non sia più... terra visibile se se comprende non sono sicuro e a noire questo animo non è più terra visibile ah d'accord di fatto è un animale che non si può vivere su terra nini su la terra e c'è un animo che vuole non 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 io voglio di tutto o hai fatti volontariamente un po' un po' me l'ha esit di fatti è un animale che è fitti e la color l'as color rossel sabes che non color res d'accord roves no no è la color del solel ok jun e e adun quest'animo dans il ha il è è connesso par un un serie un un design animale esattomen ero la mascotte di uno serio animale saponezo pecca Ma ero volontariamente un po' complicato ma descrizione. Luca, che bene te la farai mai esito. Perché per me Pikachu non è un figlio, ma più un sorgente. Un sorgente. Un sorgente? Un sorgente. Un... come un rat. Ah, no. D'accordo. C'è un personale ficti, del sexe fumelin, che pervoca un migliore rurale, della Champagne. D'accordo. E che vive solo in una paura. Una paura, non si tu preferis. Un giorno, una paura per un fuere. Ah, dunque, je dis l'istruese. Un giorno, son pep pare per un fuere. ma il avuta un prisonnier da un chacchio, o biomittante d'un touche, d'un furet. Sa fiè il ira a sonnersache, e io che domandere la liberazione di son paese, dei conti sa libertà di Al. Adunia tornerà prisioneire. In questo chacchio, ha scoperto una terra abbastanza, una terra senza biotei, ma quindi un grande cuore, un cuore veramente terrenne. C'è lì, ha un rose, un miroir magico. D'accord. Devo dire che, è stato un po' complicato, però anche la De Vito sapeva il patrò, che mi ha detto che ero un personaggio femenino, che vivio, a la De Vito ho vio pa compres con chi vivio, ed un come pensavi che bello podia essere la Heidi, che vivio dinten montanys amb lo gran, ma prima es dits che che ero un oro o che vivio dinten un castell, a me non per sui un personaggio, che io faccio una grande oveutat, ma un gran cor, a sa epla incavato. Dunco, vele lo che è la bello, della bella la bestia? No, 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 Sono l'est per l'ITEO NOS GESTIUS Sono l'est per l'ITEO NOS GESTIUS Ah ok ok Ah ok Ah donc c'è un un percent un percent ficti è un personaggio fictiu Ficti ok Questo personaggio è conosciuto in una giocheria video Bellew qui ha de video sono l'est per l'ITEO non è conosciuto principalmente ok a dunque vanchier dans un design animé oh a barretto da otros causos ma ien desennanimat ok c'è c'è un boem o un hum? è un nome ma un net hybride ha una forma humana ma non è nascita come un uomo è un po' di la più del personale quale è sa color è un color di un desenanimato è blanco come noi ma in realtà è un po' più bruno la parte varia in indice è falso di fust è un po' più bruno è un po' più bruno è un personaggio che 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 fa che dice che dice ok allora è Pinocchio oh perfetto ok non è non è tutto facile è un po' più si è una persona una persona reale o fictiva un po' più fictiva d'accord di un po' più di un po' più audiovisual o ben di un libro di un conto di un po' più in lorraine per un libro d'accord è un libro che è ansia o più l'euro recente non più antico d'accord è un storio che pur io essere realista o è mai un conte di un po' più a noi è questa è tornaio un kit un legenda se posso dire si posso dire ad un... ma nenni c'è un po' reale d'accord d'accord e c'è un personaggio femminile? nenni un uomo d'accord dunque un nome d'inginolizzendo e scritto fa un bravo momento d'accord d'accord es un personaggio que es puleu aimable o marit pardon es puleu aimable es un personaggio simpatic o marit que voleu fiac fiac ok maissan has un indici per io? c'è c'è un personaggio qui ha provoqué provoqué de victimes d'accord è un personaggio che è manso? la victima? che è cannibale? un 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 personaggio che ignacca le se victime d'accord 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 è un personaggio che è maschili che vende inolizzendo che è manso là c'è che vende inolizzendo e c'è una forma umana è un personaggio che si trattaforma Ah, ben, già sai che ho dei adaptazioni e io che quel personaggio può finalmente se transformare in un animo, pardon. D'accord, e quel animale è un rato penato? Ok, ok, pensi che l'hai. Dracula. Perfetto. Wow, è complicato questo. No, è un kit. Allora non fa la d'arriero, l'ultimo, e speri l'hai teo non scestivi. Ok, è un buon? Oh. Ok. Questo buon è reale? Oh, è reale. Ok. All'è conosci più in Europa o in America? Oh, è sforzo coneguita in Europa ma di fattere in lo mondo entier. È l'è conosci per jasai mille, per chanter? Mi leo che cantavo, ma non, è pa coneguit per acco. Alla saveto parli francese? Usai pa. Usai pa. Cresi pa. Alla ha inventato un show merveilleux. Oh, è un rischio che ha inventato. Un rischio che ha inventato. Un rischio che conosce tutti. È un rischio che conosce. 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 Un rischio che conosce. Un rischio che conosce. è 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 un rischio che conosce. che conosce. È un rischio che conosce. è un rischio che conosce. Che cosa conosce. se aveva parlato in Nisar, per esempio. Però interessante. Vamersi, pla, m'ha agradato forse, desuva. No, merci, da tuve. A presto.